Due sacchetti di cocaina nascosti tra tovagli e tovaglioli del ristorante e quanto hanno accertato i carabinieri della stazione di Castiglione Torinese che hanno arrestato il titolare di un ristorante di Gastino Torinese per detenzione di droga. Il carabinieri hanno sequestrato due buste in cellophane contenenti 184 grammi di cocaina. L'uomo ha detto che si tratta di droga per uso personale. A Settimo Torinese invece un uomo nascondeva negli slip 27 dosi di droga tra cocaina e hashish. Il pusher è stato fermato dopo aver consegnato una dose di hashish a un cliente. Durante la perquisizione personale i militari hanno trovato nascosti all'interno degli slip le dosi pronte per essere spacciate e 70 euro in contanti. Il cliente è stato segnalato alla prefettura come tossicodipendente. La successiva perquisizione a casa del pusher ha permesso di sequestrare 120 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 170 euro in contanti di banconote di piccolo taglio. Il cliente è stato segnalato alla prefettura di piccolo taglio.